Ciao a tutti ragazzi sono Andrew Rozza e bentornati sul canale Oggi ragazzi torniamo con un video a tema figurine Ovviamente per i più attenti, lo avevo già detto, sul canale Che avrei riportato io in te figurine fanini E che cosa esce, anzi che cosa è uscito questo mese qui È uscito l'album dei mondiali femminili Attenzione perché è importante a livello collezionistico Perché sta andando tantissimo Se cercate online gli acquisti degli album appunto dei mondiali femminili Vedrete che è tanta roba Ovviamente adesso lo vedremo assieme Chiaramente col cambio cam E vi dirò anche un po' di cose inerenti ai nuovi video a tema film Allora ragazzi eccoci qua con l'album Ovviamente camera mobile Chiaramente per inquadrare meglio al dettaglio Dicevo mondiali 2023 di Australia Nuova Zolandia Ovviamente mondiali femminile 580 qua ho già aperto Ma è lo starter pack un po' classico Con 5 bustine Vedete qua E poi andremo al dettaglio E ovviamente l'album a 4,90 euro Chiaramente se lo prendete sul sito panini Ci sono già i box 36 euro Che comunque non è male come prezzo Guardate tutte le bandiere Delle squadre partecipanti I mondiali sono già iniziati Ovviamente andiamo a scoprire un pochettino Cosa hanno fatto Chiaramente ragazzi come al solito Questa è la figurina Delle varie giocatrici Con chiaramente la didascalia Qua attaccanti centrocampisti Difensori e portieri Come al solito Potete fare sull'app E qua chiaramente Ci sono le varie figure di introduzione Qua ovviamente le città ospitanti Che dovranno essere completate No? A questo giro no? Qua abbiamo già Gli stadi a differenzione dei mondiali del Qatar Se magari ve lo rilascio qua Il vecchio video Se dovete recuperare Ovviamente qua iniziano le nazionali Chiaramente Ci saranno da fare gli aggiornamenti Perché come al solito Ci sono state le convocazioni un po' sballate Qua abbiamo la Svizzera Ovviamente poi soprattutto sull'Italia Che ci sono state tante giocatrici Che immagino Non siano state convocate Qua c'è l'Irlanda Come al solito Il dettaglio è il percorso Per le qualificazioni Chiaramente E quindi Comunque interessante Canada Questo è poi il girone Della Spagna Con il gruppo C Comunque è un album Un po' canonico 3, 6, 7 3, 6 10, 17 figurine Per squadra Ovviamente 16 più Lo stemma Chiaramente Canonico Tra virgolette Perché ci fa vedere Quei che sono I dettagli A livello Di collezionismo Come vi dicevo prima Gli album femminili Stanno andando Per la maggiore Nel senso che comunque Vi sfido a cercare Magari su ebay O comunque su altri siti Di acquistare Magari l'album Anche dei vecchi mondiali E vedrete E vedrete voi Che comunque ci sono Elementi Molto interessanti In termini di costi In termini di collezionismo Anche perché Comunque Questa mossa È stata interessante Anche perché ci sono Tante ragazze Che comunque Lo comprano Qua vedete C'è panini collector Chiaro Perché poi potete fare Ci sono Gli sticker Quelli speciali Un po' Come usa Ultimamente Panini Infatti vedete Che la competizione Va dal 20 luglio Al 20 agosto Un mese Quindi Qua ci sono Appunto Figurine speciali Appunto Che si possono Scansionare Queste Addirittura Pare Poi lo vedremo Se li troviamo Poi ovviamente Riprendono qua Con gli Stati Uniti Sono molto curioso Ovviamente Di andare nel Giore dell'Italia Per vedere Un pochettino Che cosa Avevano Portato Tra l'altro Io avevo preso Anche quello Degli europei Se vi ricordate Femminili Nello scorso anno Qua abbiamo La Francia Che ci aveva Massacrato Peraltro Agli europei Ovviamente Nel senso Sono molto Curioso Di vedere Che cosa Hanno portato Voi Fatemi sapere Sotto nei commenti Se lo fate Intanto Comunque Se seguite Il calcio femminile Da questo punto Di vista Altrimenti Comunque È un'alternativa Che potete Scoprire anche Abbastanza bene Qua c'è il Sudafrica E qua Finalmente Arriviamo Alla nostra Italia Ovviamente Il giro è inserito Con la Svezia E con l'Argentina Che è stata vinta Qua vediamo Che tra virgolette C'è Sara Gama Ad esempio Che non è stata Convocata E peraltro Anche Bergamaschi È inserita Ma non convocata Tra virgolette Immagino Magari No Martina E per ora Mi viene in mente Solo loro Perché le altre Dovrebbero esserci Tutte Scelte un po' Così Però Da questo punto Di vista Ogni volta La Panini Fa delle scelte Poi ci sono Gli aggiornamenti Classici Qua andiamo Con la Germania E ovviamente Poi andiamo Verso la chiusura Del Con il Marocco Corea Che dovrebbe essere L'ultima squadra Qua ovviamente Ci sono tutte le partite Con tutti i giorni L'Italia Per dirgli Aveva giocato L'altro giorno Con l'Argentina Ritorna in campo Per il gruppo G Il sabato 29 luglio Con la Svezia Qua Vedete Poi c'è tutto Il percorso Vedremo Cosa sarà In grado Di fare La Nazione Di Milena Bertolini Qua ci sono La Road To Tutte le squadre Tanto se Volevate un album Con l'Italia Ovviamente Aspettare la maschile Forse Vedete E c'è Comunque Quella De La Nazione Femminile E quindi Questo era L'album Ovviamente Qua come al solito C'è il codice Per le figurine Mancanti Tra l'altro Chiedo scusa Ma ancora Non sono riuscito A fare un video A tema Calciatori Panini Per far vedere L'aggiornamento Finale Dell'album Comunque Adesso Andiamo a vedere Allora Eccoci qua Ragazzi Come vi dicevo Farò un video Poi dove vi farò vedere L'album completo Non so quando Perché ho in ballo Tanti video Da realizzare Adesso appena Riesco Andiamoci a vedere Intanto Le bustine Classiche Che sinceramente Dovrebbero costare Un euro Credo Ancora Però non ne sono sicuro Perché secondo me Potrebbe essere meno Però Considerando I costi Recenti Potrebbe essere così Magari Ne compro un po' E andiamo a vedere Assieme Poi ve lo dico In un nuovo video Spacchettamento Dove prendo anche Qualcosa di azzurre Ora andiamo A aprire E vediamoci Finalmente Le figu Come sono Chiaramente Tra l'altro C'è il codice Magari Ve lo lascio Se qualcuno Lo fa Qua abbiamo Chapman Del Canada Tra l'altro Sono molto piccole Cioè come al solito Delle figurine femmine Sembrano anche fatte Becchio stampo Molto molto Leggere Greenwood Poi abbiamo Sara Trighe Che è una giocatrice Del Milan Peraltro Abbiamo Hoot Da Germania E poi abbiamo Lavel Rose Qua c'è il codice Del Beyond Greatness Che potete riscattare Sull'app Ovviamente Per Scaricare E Per riscattare La collezione Sticker Ovviamente Ragazzi Andiamo avanti Vediamo Tra l'altro Di trovare qualcosa Eh Bene Vedi Vedete Qua Beyond Greatness Le Greatness Scusate Con appunto La figurina Con la figurina Quella Olografica Che vi dicevo Con l'Inek Sedegno Quindi qua poi passiamo oltre Con giocatori dell'Aiti Addirittura Incredibile Poi perché È bello Perché Sul livello Femminile Vedete Delle nazionali Che magari Non si vedono Classicamente Qua abbiamo addirittura Lo stemma Di Aiti Molto bello Bello Questo pacchettino Che È stato molto Divertente Perché mi ha permesso Anche di farvi vedere In un ottimo Video intro Per la collezione Quelle che erano Le varie tipologie Di figurine Quindi non male Non so se È il classico Obbligato Che quando prendi Lo starter pack Trovi qualcosa Comunque abbiamo Per l'Argentina Bravo Abbiamo Guillen De Costa Rica E troviamo Bergamas Che ovviamente È la giocatrice Capitana del Milan Non convocata Peraltro Quindi Diciamo che Non siamo Partiti bene Più altro Mi sembra appunto Che non sia stata Convocata Però Fatemelo sapere Anche voi Nei commenti Sonnet E poi Brun Della Danimarca È ovviamente L'ultimo codice Qua abbiamo Le ultime due Bustine Qua abbiamo Addirittura Il pallone Dei mondiali Che è Numero 4 Abbiamo Qua Giocatrice Del Sudafrica Cinese Ovviamente Non le conosco Tutte Per esempio Il lungo Della Zambia Incredibile Zambia mai visto In un mondiale Poi Panama E l'ultimo codice Andiamo a vedere Che cosa ci riserva Tra l'altro Abbiamo forse Di trovare Qualche altre Giocatrice Della nazionale Oppure no Costa Rica Che è stata Più cercata New Del Vietnam Stemma Della Norvegia Con la stella Ovviamente Perché è Campione Del Credo Del mondo Non so in che anno Però fatemelo sapere Nei commenti Poi abbiamo Ancora Del Vietnam Brown Dell'Argentina E poi Basta Direi che C'è tutto Figurine Dal mio punto di vista Sono molto più piccole Ovviamente Quelle della serie A Ma è classico Un po' Degli album mondiali Anche perché L'album stesso È più sottile Sono 580 figurine Devo dire la verità La qualità Secondo me È uguale A quello del mondiale Di Qatar Quindi non è che Hanno cambiato molto A livello grafico Mi piace di più Vi devo dire invece Quindi promosso Dal mio punto di vista Comprerò ovviamente Altre bustine Per cercare di completarlo Ovviamente Come al solito Valgono gli scambi Se Voi lo state facendo Per cui ragazzi Fatevi sapere sotto Nei commenti Se lo fate Se avete qualche curiosità E comunque Noi ci vediamo Ad un prossimo video Ciao Noi ci vediamo Noi ci vediamo